Dottoressa Serena Gargano, a cui do il benvenuto, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, grazie a tutti. Benvenuta dottoressa. Allora, prima di parlare della corretta alimentazione, qual è quella che si può definire la corretta alimentazione? Vorrei chiederle quanto tempo è che è medico nutrizionista e che tipi di studi ha fatto per diventarlo. Allora, io dal 2000 che mi sono laureata in medicina, ho poi fatto una specializzazione in medicina interna e dopo 5 anni di specializzazione ho fatto un master di dietologia e nutrizione e da, insomma, i primi anni del 2000 che comunque lavoro come dietologo nutrizionista. Secondo lei mangiare la pasta a colazione si può fare o non si deve fare? Ma diciamo che il principio su cui si basa questo tipo di dieta non è proprio campato in aria però, insomma, bisogna avere anche... Quindi in un certo senso ci potrebbe stare? In un certo senso ci potrebbe anche stare, però diciamo che bisogna avere anche il coraggio di mangiare la pasta a colazione, questo poi dipende dalle persone e più che altro per quanto tempo poi si resiste a fare un tipo di dieta che non è quella che, insomma, ci appartiene di più come... Però comunque questione di abitudine non è una cosa proprio sbagliata, insomma, da mettere da parte. Il concetto di mangiare il carboidrato a colazione è un concetto, tutto sommato, non sbagliato, lo dice anche la dieta mediterranea, lo dice anche la cosiddetta piramide alimentari nel senso che il carboidrato a colazione è da energia, quindi tutto sommato va bene per affrontare la giornata, va bene perché poi si ha il tempo di consumarcelo questo carboidrato, quindi non si assimila così come se lo mangiassimo la sera. Però dipende dal tipo di carboidrato, dipende da tante cose, ecco, è facile dire carboidrato, pasta, colazione. In realtà poi... Anche un panino integrale, non so, con qualcosa, un progetto crudo. Brava, brava. Un panino integrale, pane integrale di segale, insomma, fibre, fibre che fino adesso sono state un po' così, non tenute tanto in considerazione e che invece hanno la loro validità. proprio per il fatto che non bisogna più contare le calorie come ci hanno insegnato fino adesso, ma bisogna guardare all'indice glicemico, al rilascio dell'insulina, insomma, a come si metabolizzano questi alimenti. Quindi è anche sbagliato prendere la dieta di qualcun altro e farla, perché ognuno ha bisogno di cose diverse? Sì, soprattutto perché oggi ci sono tante persone che soffrono di insulino resistenza, che è una patologia importante, che non permette di dimagrire e magari è poco conosciuta, è poco... insomma, non tutti ne tengono conto e questo non ci permette di mangiare tutti la stessa cosa. Anzi, a seconda della patologia di cui si soffre o comunque della tendenza che si ha, si deve avere un'alimentazione più precisa. Ecco perché le diete social lasciano un po' il tempo che trovano, un meglio. Alcune sono fatte anche bene, ma altre non tanto le diete social, ma quello che si trova un po' su Facebook, questi improvvisati che vendono bibitoni miracolosi, 7 kg in 7 giorni, insomma, io ne starei alla larga. Il punto riguarda la dieta mediterranea, è sempre stata la stessa di un tempo oppure nel tempo appunto è cambiata in qualche modo? No, oggi ci sono tanti studi che hanno sì validato i principi base, però insomma con una rivisitazione, quella appunto, come dicevamo prima, di inserire cibi integrali, quindi il pane e la pasta, così come ce l'hanno dati a noi da piccoli, oggi non vanno più bene perché sono più raffinati questi cereali, quindi fanno più male e da qui si spiega anche molto di questi celiaci che adesso sono molto più frequenti di quanto non lo fossero prima, proprio perché le farine sono lavorate, sono raffinate, quindi il pane che arriva nelle nostre tavole non è lo stesso di prima. Quindi cereali integrali, ma anche il movimento che è alla base della piramide, delle nuove piramidi alimentari, cioè l'attività fisica, cosa che oggi facciamo poco, e l'acqua, l'acqua da bere. Siamo un po' sedentari, ecco io sull'acqua, l'acqua per me è un problema, bere, non mi ricordo proprio di farlo. Sì, l'acqua è una questione di abitudine, più uno beve più ha sete, più uno non beve, non è abituato a bere, più se la scorda tranquillamente. Una dieta con dei carboidrati, soprattutto se mangiati di giorno, però integrali, a basso indice glicemico, quindi insomma uniti magari a delle proteine perché contribuiscono ad abbassare l'indice glicemico, quindi li metabolizziamo meglio, evitiamo questi picchi di glicemia e di insulina che ci fanno invece accumulare grasso. E la verdura, la verdura oggi spesso mangiamo fuori casa, mangiamo al volo un panino, una cosa, la verdura è dimenticata, invece le fibre sono alla base proprio della piramide, proprio perché ci aiutano ad abbassare l'indice glicemico dei cibi e quindi ci aiutano a metabolizzarli bene. Allora dottoressa, lasciamo tutti i contatti in modo che i nostri ascoltatori, qualora volessero chiederle informazioni o un appuntamento, insomma prendere una dieta personalizzata, possono sapere dove contattarla. Sì, allora io visito a Roma, in zona San Giovanni, in via Biella, che è una traversa di via Taranto, via Biella 4 e mi possono contattare al mio telefono che è il 349 8084017 oppure tramite mail serenagarganochiocciolaiau.it Benissimo, io la ringrazio dottoressa per essere stata qui con noi, grazie. Grazie a voi, grazie.